Mi chiamo Jenny Borrelli, l'azienda è Fronze di Accessori per Capelli e il mio ruolo è un po' tutto fare, è stato un brand creato e voluto da me e lo gestisco. Fronze di Accessori è un brand nato da una mancanza e anche una passione per i capelli che si dedica proprio a tutti gli accessori per capelli. Una parte viene creata all'estero, un'altra parte è creata qui in Italia, il design è italiano quindi cerchiamo di dare questo stile europeo a questi articoli. Con il consulente abbiamo capito quali sono gli articoli che ci fanno guadagnare di più, gli articoli che ci fanno guadagnare di meno, il tempo che perdiamo in certi settori come può essere magari il settore e-commerce oppure il settore rivenditore, quindi capire effettivamente i nostri utili dove sono. Quindi ti danno un'idea di dove investire il tuo tempo e le tue risorse in modo da poter guadagnare di più.